Cominciare a riparlare alla gente, partendo esattamente dai temi che preoccupano il ministro Lamorgese. Per tutti questi mesi, nel lockdown, abbiamo sentito parlare di una montagna di soldi che sarebbero arrivati e che comunque avrebbero coperto tutti. Il problema è che l'atterraggio di questi soldi non è mai avvenuto. Il paese reale, dai lavoratori, dalle famiglie, dai piccoli imprenditori, non si sono accorti di questa montagna di soldi che sarebbe arrivata. E quando tu ad un tratto vai magari a fare la spesa e pensi di poter utilizzare il tuo bancomat e ti dice disponibilità non più possibile o transazione non eseguita, e tu sei lì. Non so se a voi è mai capitata di andare al supermercato in un negozio e perché si è inceppata la carta, perché magari non l'hai stasciato bene, e ti dice che la transazione non riesce. Tu ti senti un po' un ladro. Non sai come fare, magari non hai i liquidi nel portafoglio, non hai il contante. Entri nel panico. Prova a immaginare una situazione in cui non è un imprevisto tecnico, ma diventa la tua nuova disponibilità, cioè non disponibilità. I soldi non li hai più. Ti chiamano dalla banca, ti dicono guarda che questo mese tu sei scoperto con la carta di credito, e te la tagliano, perché tu non hai più una possibilità di fare rientrare nelle tue casse familiari i soldi che prima ti erano garantiti, quantomeno da uno stipendio, da una retribuzione. Allora stiamo attenti tutte le volte che parliamo di soldi, perché se i soldi non arrivano, mio nonno insegnare diceva che senza soldi non si cantano messe. È così. Quando tu non hai più i soldi, hai la disperazione di una situazione dove inizia a diventare un po' invisibile. Provate a pensare anche alla complessità sociale, a queste famiglie che vanno incontro magari a delle ferite, possono essere separazioni, divorzi, e per di più ti ritrovi senza lavoro. Quando non hai più i soldi, la gente ti dice io non ho più nulla da perdere. E si unisce alla disperazione di altre persone. Cosa facciamo? Schiereremo l'esercito contro padri di famiglia, contro madri, perché chiedono soltanto un posto di lavoro? Guardate che meno 11,2% non è un dato statistico. Sono storie di drammi personali. Però questo governo qualcosa ha fatto. È vero che... Ma meno 11,2%... Voi vi ricordate nella storia d'Italia un meno 11,2%? No. Quindi noi non sappiamo che cosa vorrà dire gestire meno 11,2%. È qualcosa tipo 180 miliardi che non ci sono più. E quando sento parlare di ricoveri, di messa, di questo e di quell'altro, con tutti questi tesoretti o porcellini vari da spaccare per fare... Non ci puoi per esempio pagare le casse integrazione. Non puoi tamponare delle situazioni. Noi oggi abbiamo ancora imprenditori che aspettano i soldi da anni dallo Stato che indietro non pagava. Figurati oggi. Ci sono distretti produttivi di questo Paese che non ripartono perché qualcuno gli aveva garantito che sarebbero stati abbassati le tasse, che avrebbero pagati i crediti della pubblica amministrazione, cioè i debiti della pubblica amministrazione. E tutto questo non è accaduto. E allora c'è il rischio di tensioni sociali. Le sappiamo e le sapremo gestire? Io temo di no.